Scatole di giubbotti di salvataggio, scarpe e pantaloni abbandonati, gli indizi delle partenze verso l'Europa sono ancora qui, sulla costa orientale della Turchia. Le traversate su imbarcazioni di fortuna, che nel 2015 lasciarono decine di morti nell'Egeo, stanno tornando ad essere sempre più popolari tra i rifugiati, che non vogliono tornare a casa ma non riescono più a sostenersi. Tra loro ci sono anche i barasi, madre e tre bambini arrivati dalla Siria, dicono di aver presentato domanda di reinsediamento all'estero, all'ONU, ma senza ricevere risposta. Così hanno tentato il viaggio già tre volte. È difficile vivere da sola qui, sono stanca, stanca delle responsabilità, non posso affrontare tutto questo da sola, ecco perché ho scelto questa strada. La famiglia vive ora nella città costiera di Smirne, vicino alle isole greche, è da qui che molto spesso passa il viaggio verso l'Unione Europea. Secondo le autorità turche, negli ultimi mesi il numero delle persone intercettate in mare verso la Grecia è triplicato. Questo è il destino peggiore per chi attraversa il mare. Alcuni di coloro che sono morti cercando di raggiungere la Grecia sono sepolti qui, senza nome, come un monito dei rischi che si corrono nella traversata. Mohamed Salih gestisce una ONG che aiuta i siriani a Smirne. Da luglio il numero di quanti si sono rivolti a lui è raddoppiato. In molti sono arrivati da Istanbul, dopo che in estate il governo ha annunciato che quanti non erano registrati in città avrebbero dovuto andarsene. Ora devono trovare un nuovo posto dove vivere, spiega. Un nuovo lavoro? Sono davvero in una situazione difficile. Il presidente turco Erdogan ha insistito per ottenere il sostegno internazionale per il suo progetto relativo a una zona di sicurezza in Siria. In questo modo intende agevolare il ritorno a casa di un milione di siriani, ma in caso contrario ha minacciato di aprire la strada ai migranti verso l'Unione Europea. Munir Renshari, vice leader del partito di Erdogan a Smirne, ha detto che le autorità turche stanno ancora aspettando il denaro promesso da Bruxelles nell'ambito dell'accordo per arginare i flussi. Attendiamo questo sollievo da molto tempo. Il nostro presidente ci dice che dobbiamo fare la nostra parte in questo accordo, ma non abbiamo ancora ottenuto nulla. Nel frattempo però rifugiati come la famiglia Barasi sono lasciati alla deriva tra la ricerca di un futuro in Europa e una vita sempre più difficile in Turchia. Grazie. 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 Grazie.